850 le partenze in basca e 9 nuovi record, questi i numeri della 22esima edizione della Coppa Bolzano Nuoto. La gara è andata in scena ieri pomeriggio alla piscina di Maso della Pieve, ottime le prestazioni da parte di tutte le squadre provenienti da Alto Adige, Trentino, Lombardia, Veneto, Germania e Repubblica Ceca. Non è una manifestazione di livello assoluto, così come il meeting dell'SSV o ai primi di novembre, ma lo scopo, l'obiettivo è una gara più locale, a livello giovanile, con tante gare aperte anche ai ragazzini più giovani, desordienti B e desordienti A. In basca anche la campionese abristinese Laura Letrari che si prepara per la qualificazione per Londra 2012. I primi di marzo si terranno i campionati assoluti a Riccione per la prima qualifica e Laura Letrari è pronta. Siamo appena tornati da un mese in altura in Francia, sui Birenei, dispersi nella natura e credo sia stato il collegiale più bello e il fatto meglio che abbia mai fatto. Abbiamo veramente lavorato bene e fisicamente mi sento bene, adesso stanca perché scendendo dall'altura sei un po' stanca, però insomma manca poco e mi sento bene di testa, sicuramente molto bene. Alti livelli degli atleti in vasca, la Bolzano nuoto da anni ormai è fucina di grandi talenti, una la convinzione di agonisti e organizzatori, la città capoluogo ha bisogno di una vasca da 50 metri. Avendo ragazzi di questo livello costretti ad andare a farsi 300 km per andare a ritorno per andare a nuotare in vasca da 50 non è il massimo, potremo impiegare quel tempo in cose molto più utili e ovviamente non tutti possono partecipare a questo viaggio e quindi alcuni dovranno rimanere a casa. Chiaro che avere la vasca da 50 a Bolzano potrebbe farci fare quel salto di qualità che al momento è difficile da fare. Purtroppo noi dobbiamo fare tutti questi chilometri per allenarci perché insomma qua non c'è, però devo dire che giù l'impianto è fantastico, c'è sacrificio però giù ci danno spazi acqua, abbiamo praticamente una piscina per noi e siamo ogni volta in 5-6 persone, quindi veramente è fantastico per un atleta, è il meglio per allenarsi insomma. Due progetti di cui si parla da tempo, uno prevederebbe la realizzazione di una copertura della vasca Esarco del Lido, l'altro invece parla della costruzione di una piscina olimpionica nel complesso di Maso della Pieve. Tra le ipotesi era spuntata nei mesi scorsi anche quella di introdurre la realizzazione della vasca nel maxiprogetto del centro sportivo provinciale di Caldaro. La speranza di agonisti e associazioni sportive è che si arrivi ad una decisione definitiva sulla agognata vasca.